Ieri sera si sono accesi i riflettori sulla Piazza del Natale, il villaggio allestito in Piazza Garibaldi che per un mese fino all'8 gennaio allieterà le festività dei nisseni con musica, divertimento e giochi per bambini in un programma ricco e variegato, realizzato grazie al coinvolgimento di associazioni ed espositori. La piazza ospiterà il Natale, con un progetto ideato per soddisfare tutte le esigenze dai grandi ai bambini con la presenza degli espositori nelle casette di Natale dove la piazza diventerà un luogo magico in questo periodo di festività natalizie. L'aria che oggi si respira qui in centro è veramente da Natalizia, sta sicuramente anticipando bene quello che saranno queste feste. Nelle prossime giornate ci saranno tantissimi altri eventi, quindi vi invitiamo chiaramente a partecipare, per rimanere in contatto con le nostre pagine Facebook e il sito della piazza del Natale per vedere tutti quelli che sono gli eventi che abbiamo proposto. Ancora una volta un lavoro sinergico con quanti hanno voluto realizzare qualcosa di importante nel nostro centro storico. Oggi è meraviglioso vedere la risposta di tutti i cittadini che si stanno recando qui nella nostra piazza. Pertanto ci auguriamo di vedervi tutti i weekend perché per tutti i weekend ci saranno degli eventi organizzati per alietare i grandi e i piccini. Abbiamo un cocktail perfetto, abbiamo gli espositori con il loro artigianato, con i prodotti enogastronomici di qualità e della nostra terra e quindi che insieme agli eventi e l'obbistica e l'oggettistica varia, arricchiscono sempre di più il nostro villaggio.